L'udienza davanti alla sezione giurisdizionale siciliana è stata fissata per il prossimo 23 luglio a Palermo. Dall'istruttoria della Procura Generale della Corte dei Conti è emersa non solo l'omissione delle iniziative necessarie a fronteggiare le gravi irregolarità contabili e la rilevante crisi finanziaria in cui versava il Comune di Catania, ma anche una perdurante mala gestio, nonché la palese e cosciente violazione dei principi di veridicità, attendibilità e universalità del bilancio, tutte cause che hanno determinato un ulteriore progressivo aggravamento della situazione finanziaria dell'ente. La sanzione da oltre 1 milione e 200 mila euro in favore del Comune di Catania nasce dalle gravissime e reiterate violazioni accertate ed è stata quantificata nella misura massima prevista, pari a 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. Oltre al sindaco Enzo Bianco ci sono gli assessori della giunta e anche il collegio dei revisori in carica, nel quinquennio antecedente la dichiarazione di dissesto, essendo venuta meno la propria attività di controllo. L'ex sindaco di Catania Enzo Bianco si dice certo di poter dimostrare la piena correttezza dei comportamenti della giunta, ricordando come il Comune di Catania avesse dichiarato il predissesto nel 2012 sotto l'amministrazione Stancanelli per indebitamenti della precedente amministrazione. Bianco difende l'operato della propria giunta del collegio dei revisori per aver evitato il dissesto per cinque anni, dissesto che sarebbe stato pagato dai creditori del Comune.